Il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, ha presentato un'esposta alla Procura della Repubblica per segnalare la gravità della situazione legata all'inquinamento del mare. Da anni, è detto in una nota del Comune, viene segnalata la presenza di liquami in mare. Da anni i cittadini si indignano e protestano, ed anche quest'anno, il solito copione. Ieri mattina, numerose le segnalazioni e le proteste pervenute al Palazzo Municipale da cittadini e bagnanti, prontamente raccolte dal sindaco e dal vice sindaco con delega all'ambiente, Raffaele Sainato. Sono stati immediatamente avviati i controlli in tutti gli impianti cittadini per i quali veniva confermato da parte della ditta incaricata e della gestione il corretto funzionamento con l'assenza di alcun tipo di avaria. Quindi, mentre l'assessore all'ambiente effettuava le opportune verifiche agli impianti, il sindaco della città calabrese, insieme a Polizia Municipale e Guardia Costiera, allertata proprio dal primo cittadino, verificava la gravità della situazione lungo tutto il tratto di mare antistante l'arenile comunale, confrontandosi con la rabbia di cittadini e turisti. In un post su Facebook, il sindaco della città calabrese ha parlato di spettacolo indegno. Lo scempio presente in mare da due giorni non dipende assolutamente dalla città di Locri. L'impianto fognario, come verificato dai tecnici comunali, e dalla ditta incaricata dalla manutenzione, funziona perfettamente. Non ci sono scariche a mare, dei quali possa essere responsabile il comune di Locri. Lo stesso sindaco calabrese ha convocato una riunione straordinaria ed urgente dell'esecutivo municipale per domani, al fine di individuare, si afferma nel comunicato, soluzioni per tutelare la stagione estiva già iniziata male a causa delle non buone condizioni atmosferiche e che rischia di essere compromessa a causa delle condizioni del mare. Non si può stare sempre con la speranza che il mare pulito dipenda dalle correnti, tutto ciò è inaccettabile. Se il presidente Mario Liverio sostiene che in Calabria vi è un mare da bere, lo invitiamo allora a venire a bere l'acqua del mare della Locri. Siamo certi che in tal caso, afferma Calabrese, dovrebbero ricorrere alle cure dell'ospedale della Locri. L'ospedale che non c'è, ma il presidente Mario Liverio questo non lo sa. Una situazione è quella del mare Locrese che verrà costantemente monitorata, con la speranza che possano essere presi i giusti provvedimenti da chi di competenza.